La tua unica via di fuga era nel delirio. D'accordo. Kristen, eh? Molto bene. Vieni con me. Puoi usare la sala ricreazione e il cortile fino alle 22 a partire dalle 8 di mattina, ma di notte è tutto chiuso. Tu sarai confinata nella tua stanza. Che cosa ha quella ragazza? Oh, lei è soltanto pazza. Come me. E te. E come tutte qui. Bum bum pazze siamo tutte. Parla per te, idiota. E che cosa devo dire al tizio per uscire dalla clausura? Insomma, per godere di privilegi notturni? Nessuno gode di privilegi notturni. È una cosa vecchia. Non sono più quella ormai, mi credo. Quando portate via qualcuno succede che poi non torna. tanto per chi non torna. Da, non è una cosa vecchia. La mia voce, si è subito. La mia voce, non è un piac하면 che poi si chiara. Quesso si pu� la quazione. Di, Michele. È un po' di fai. È un po' di fai e che adoro. lei stava qui. Era una di noi ma se n'è andata ora. Cosa gli è capitato? A chi? Ad Iris, Elis, Temi. Per favore. Non sono io che posso darti le risposte. È dentro di te che devi trovarle.